Gentili telespettatori, buona giornata. Un'intervista a Orlando, il ministro del lavoro del Partito Democratico, che secondo alcuni ha cercato di fare il blitz, di mettere lo spostamento del blocco dei licenziamenti senza che nessuno se ne accorgesse, un blitz non riuscito. Ma lui dice io non ho fatto alcun blitz, i partiti ripongano le bandierine o mettono tutto a rischio. Quindi quando la sinistra non riesce a fare quello che vuole allora dice beh qua si mette tutto a rischio. Dice ma che sotterfugio, la norma è stata inviata agli uffici legislativi con due giorni di anticipo. Ma nessuno ne sapeva niente perché molti confidano nel fatto che i ministri non leggono i documenti. Questa è la realtà, i ministri non leggono i documenti. Quindi quando arriva un decreto, una legge da firmare, loro firmano senza sapere se qualche manina ha fatto qualche modifica. E dice così che la dinamica che può guidare un paese in pandemia non è la stessa di un paese che ne esce, o le forze di maggioranza ripongono le bandiere, oppure mettono a rischio la tenuta del quadro politico. E ciò riguarda prevalentemente la Lega, guardate un po', che è quella che agita più bandiere. Ecco, insomma, da quello che si capisce, Orlando di nascosto modifica le cose sperando che nessuno se ne accorga, viene scoperto e dice che è colpa della Lega, che agita le bandierine. Andrea Orlando, nato alla Spezia 52 anni fa, è ministro del lavoro del PD, è stato al centro dell'ultimo caso nel governo di Mario Draghi. Un blocco dei licenziamenti prorogato ancora per due mesi, fino a fine agosto, per le imprese che chiedono cassa integrazione Covid in giugno. Misura poi ritirata. Dice il giornalista, onorevole Orlando, com'è possibile che non vi siate capiti in consiglio dei ministri? E lui dice che la norma era stata elaborata in poche ore in modo da dare più strumenti alle imprese per attenuare l'impatto della fine del blocco dei licenziamenti. La sostanza è rimasta con gli incentivi alle imprese a usare la cassa integrazione fino a fine anno, senza dovervi contribuire. In cambio si impegnano a non licenziare. L'altra norma su cui chiede cassa Covid a giugno era un corollario conseguente. Quindi alla domanda com'è possibile che non vi siate capiti non c'è una risposta. Chi critica, chiede il giornalista, dice che non era nel decreto e lei ha fatto un blitz, non parlandone in consiglio dei ministri. E lui dice, mica l'ho scritta all'ultimo nei corridoi di Palazzo Chigi. Quella norma è stata inviata per posta elettronica certificata agli uffici legislativi competenti due giorni prima. In consiglio ho solo rinviato al testo, come si fa in questi casi. E poi ne ho parlato apertamente in conferenza stampa a fianco di Mario Draghi. Secondo lei lo vorrei fatto se ci fosse stato un sotterfugio? Secondo me sì. Ha contato sul fatto che i ministri non rileggono i decreti, si fidano di quello che hanno comunque accordato la volta prima. lui ha mandato le email certificate, non ha detto niente in consiglio di ministri e quindi ha cercato sotto banco di cambiare le cose senza dire niente, confidando che nessuno andava a leggere. Poi le cose ha cose fatte e dice ma io ho mandato le email. Capito il furbacchione del PD. Maurizio Stirpe di Confindustria dice che lei è un arbitro con la casacca, quella dei sindacati, chiede il giornalista. E lui dice non voglio alimentare polemiche, ci sono troppe cose da fare, sono nelle istituzioni da tempo, credo di aver dimostrato sempre di sapere ascoltare parti lontane fra loro. L'unica casacca che ho è quella della coesione sociale. Eh no, ha ragione Confindustria. Lui sotto banco si è messo la maglietta dei sindacati, ha detto adesso ci penso io, è mando le email, non dico niente, modifico le cose così non se ne accorgono. Ebbè, è stato scoperto, per fortuna. Questa mini crisi rivela una maggioranza che fatica a trovare compromessi. Sta cominciando a sfilacciarsi e lui dice che finché la pandemia era in fase acuta tutti o quasi convergevamo sull'esigenza della vaccinazione. Ora si vede che esistono ancora una destra e una sinistra. Tenere insieme questi fattori dipenderà dalla capacità di tutti di non agitare bandiere e non perdere il treno del recovery. Ma non è un percorso che si fa naturalmente senza la politica. Lui dice di non mettere bandierine. Ecco, lui ha messo un bandierone, di nascosto ha cercato di mettere una bandierina, manco di nascosto dicendo io ho mandato le email, sapendo che poi le email non le legge nessuno. L'allentarsi dell'emergenza è un libera tutti ai partiti, è un liberi tutti ai partiti, chiede il giornalista. E lui dice vede una volontà di gran parte delle forze politiche di resistere a questa tentazione e penso che alla fine il ruolo svolto da Draghi consisterà di prevenire questo rischio. Se però fingessimo di non vederlo non faremmo un buon servizio a noi stessi, finiremmo per trovarcelo in mezzo ai piedi all'improvviso. Non basta dire facciamo le riforme perché ognuno ha idee di riforme diverse e qualcuno mostra le classiche contraddizioni del populismo. Io ho avuto Matteo Salvini che al mattino chiede di prolungare il blocco dei licenziamenti e la sottosegretaria al lavoro Tiziana Anisini, anche lei leghista, che al pomeriggio vuole l'opposto. Lei dice mettiamo via le bandierine, la dota dei diciottenni pagata con l'imposta di successione su ricchi che cos'è? Bella questa del giornalista. E dice beh è una proposta di equità tra ceti e generazioni, bandiere sono quelle ovviamente che fa il centrodestra, bandiere sono quelle simboliche e poco plausibili. In tanti paesi europei c'è una tassa di successione, in nessuno manca il codice degli appalti come propone la Lega. Quindi Orlando dice che le bandierine le mette solo il centrodestra e soprattutto la Lega, che le sciocchezze le propone la Lega mentre loro propongono delle cose che ci sono in tutta Europa. In realtà la dota dei diciottenni pagata con l'imposta di successione è oltre che una bandierina, quello è il tentativo di Letta di prendere il voto di 4 milioni di diciottenni tra 18 e 25 anni che andranno per la prima volta a votare al Senato alle prossime elezioni amministrative. Io ti do 10.000, ti prometto 10.000 euro, tu voti per me. Questi qui siamo oltre le bandierine, caro Orlando, difendi realmente l'indifendibile. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto per un altro video qui sul canale. Arrivederci a tutti e buona serata.